Si racconta che sulla porta dell'inferno è scritto Lasciate ogni speranza, o voi che entrate Eppure è proprio lì, tra i paria, i reietti Che ho capito il vero senso della mia ricerca Per quale motivo è stata spedita in questa anticamera dell'inferno? Mi hanno mandata qui per sperimentare nuovi trattamenti sui detenuti Che rimangono in vita a condizioni che facciano da cavie Sono contraria al termine cavia Il nuovo arrivato, qual è il suo nome? San Giorgio Come fa a sapere il suo nome? Dio me lo ha detto Non sappiamo molto del nuovo detenuto che è arrivato insieme a lei nella navetta Quest'uomo è venuto a salvarci Conosco la via della liberazione Bisogna intervenire Lei lo sa, non è vero? Che cosa? Che quest'uomo non è come tutti gli altri Sei stato tu a salvarmi? Ma chi sei tu? Non me lo chiedere, non posso uccidere l'uomo che mi ha salvato la vita Se mi chiedi di eliminarlo, lo elimino Respira normalmente, è incredibile Questo è un vero miracolo Vogliono defragmentarsi Nel nulla Nel nulla